Anche piano, fai tempo a toccare, perché l'ho allungato appena appena, non l'ho copiato. I pesi, pesi, oh, girata della spalla qua, sul manubrio, indietro il culo, indietro quando giri, indietro il più possibile, indietro. Ecco, via! Eh, è inutile che allarghi le braccia, ti sei salvato anche te. Io l'ho pelata fuori, inficcato.